Un saluto amici del centro americano. Primo weekend di gennaio che vedrà un clima più umide sull'Italia, ma anche l'arrivo di un peggioramento meteo segnatamente sulle regioni di nord ovest. L'inverno si mette in pausa, ma vediamo cosa potrebbe succedere la settimana prossima. La prima incertezza si presenterà proprio sul finire del weekend, quando la saccatura depressionaria sul Mediterraneo occidentale dovrebbe muoversi verso est. Si potrebbero generare nuovi minimi depressionari con maltempo specie al sud. La traiettoria risulta tuttavia al momento molto incerta. Contemporaneamente, quasi tutti i modelli mostrano ormai la formazione di un campo di alta pressione centrato sulla Scandinavia. Questo elemento potrebbe portare entro la metà di gennaio anche a profondi cambiamenti degli scenari meteo sul lungo termine. Anche oggi i due principali modelli, l'americano GFS e l'europeo ECMWF, mostrano scenari abbastanza diversi già nel medio periodo. Il primo, un anticirone scandinavo poco convinto, con un flusso da ovest invece piuttosto spinto. Il secondo, continua invece a mostrare un'interazione tra l'area più fredda dei quadranti orientali e quella più umida dell'Atlantico, proprio tra Europa centrale e Mediterraneo centrale. Trattandosi di tendenze medio sul lungo termine, come al solito, vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Mare Italiano.